Certo, te lo faccio subito! Iniziamo a prendere i pistacchi, sbucciamoli e tritiamone una parte. Il resto mettiamoli in frullatore con un po' d'acqua calda, frulliamo e mettiamo da parte. Prendiamo il nostro super guanciale, eliminiamo la gotenna, tagliamo la striscioline e mettiamoli in padella. Una volta ben dorato, mettiamolo da parte e conserviamo la pentola con il grasso. Prendiamo il recipiente, aggiungiamo tuorli, pecorino romano, pepe e iniziamo a mescolare. Poi aggiungiamo il grasso del guanciale per pastorizzare le uova. E infine la nostra super cremina al pistacchio. Guttiamo la pasta e scoliamola a metà cottura e facciamola finire di cuocere nella padella con il grasso del guanciale. Una volta ultimata la cottura, aggiungiamo la carbocreme al pistacchio, impiattiamo. E lo so ragazzi, avete ragione, non ho rispettato la tradizione, ma vi giuro che è buonissimo! Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quello che volete che vi cucino.